le rose del deserto con gocce di cioccolato e mandorle sono dei deliziosi biscottini che nell'aspetto si rifanno a delle formazioni minerali tipiche del deserto e il cui nome è appunto rose del deserto se vi piacerà la video ricetta lasciate un like grazie per realizzare le rose del deserto ci occorrono innanzitutto mandorle spellate se dunque le abbiamo con pellicina bisogna prima provvedere ad eliminarla facciamole dunque cadere in acqua bollente per 4-5 minuti poi passandole in acqua fredda spelliamole per esaltarne la fragranza tostarle leggermente in forno facendole appena imbiondire quando fredde frullare le mandorle in un mixer con 100 grammi di zucchero fino ad ottenere una fine granella in una ciotola lavorare 100 grammi di farina 00 le mandorle tritate con lo zucchero 50 grammi di fecola di patate 100 grammi di burro ammorbidito un cucchiaino di lievito per dolci setacciato mezza bustina di vanillina un pizzico di sale ed infine un uovo dore Grazie a tutti. Quando avremo ottenuto un impasto ben omogeneo aggiungiamo 60 grammi di gocce di cioccolato e amalgamiamo. Alla fine otterremo un impasto piuttosto appiccicoso. Preleviamo le cucchiaiate di circa 25 grammi l'una e se si desiderano i biscotti tutti uguali in grandezza l'ideale è pesare ogni volta l'impasto che si preleva. Far ricadere la cucchiaiata di impasto direttamente nella ciotola contenente 100 grammi di cornflakes che avremo leggermente schiacciato con le mani per rompere i petali di cereali troppo grandi. Premere un po' le palline di impasto in modo da compattarle e fare aderire più cornflakes se possibile. A tale scopo rigirarle più volte nella ciotola che contiene i cereali. Disponiamo i biscotti un po' distanziati su teglia rivestita di carta forno e lasciamo cuocere in forno previscaldato a 180 gradi per circa 10-15 minuti nella parte centrale del forno. Non bisogna farli dorare troppo. Le rose del deserto con gocce di cioccolato e mandorle sono così pronte. In un contenitore ermetico si possono conservare a temperatura ambiente anche per 4-5 giorni. Da fredde cospargerle a piacere con zucchero a velo.